Mi metto sul coso, esco Ok ragazzi, come sapete, se voi volete prendere il Fortnite 82 bisogna avere due amici che si mettono su due lastre però se voi non avete amici come me ho trovato questo metodo che penso sia stato l'unico al mondo come vedete non sono atterrato esattamente dove si prende il forbide ma un po' più lontano quindi prendo una girosfera per arrivare più in fretta quello che succede è una cosa che ho fatto oddio, oddio cioè guardate, io vado qua, mi metto sul coso esco e ci rimane, la mia reazione è stata poi ho visto che se mi metto anch'io non succede niente, non funziona quindi penso che bisogno di un'altra girosfera ma prendo un hoverboard e come vedete non funziona perché l'overboard rompe la merda quindi ho preso un code e l'ho messo con il code ha funzionato poi mi sono messo io e ho potuto prendere il forbide grazie a tutti grazie a tutti